Ragazzi questa è Londra nel 2023, Oxford Street, non stiamo parlando dell'India, questa è Londra nel 2023, io non ho parole, Oxford Street, un video girato adesso, è incredibile, è incredibile quello che si vede. Ragazzi vi rendete conto di cosa si vede qua? Lo vedete o no? Questo è quello che è destinato alla nostra Europa, fra poco anche l'Africa si sveglia, guardate cosa sta succedendo, il Ni e Ger finalmente manderanno via i coloni francesi, si riappropriano della loro terra, non verranno più in Europa ma saremo noi andare a lavorare in Africa, vedrete il futuro è questo. Sarà così nel tempo.